Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Cosa vuole fare? Ma qualcuno uccida vi prego un fulmine di vino! Ma qualcuno ammazzi questo ebete per favore! Ma questo qua non c'ho un'idea! Potete sparargli, fulminarlo in qualche modo! Balla tu cuerpo alegria macarena, per tu cuerpo ballare alegria cosa buona! Balla tu cuerpo alegria macarena! Iiiiiiiiiiiiiiiiiiii No ma tranquillo Dimmi! C'è la ludopatia oggi! E io... ma quindi scusa Jacopo qua dobbiamo... parliamo di cosa... Cioè quindi pensi... andiamo da Jacopo a capire... Quindi pensi che qualcosa salterà fuori? Oggi? No 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 no! Ha dei box vici? No no no! Il Rayquaza oggi deve saltare fuori obbligatoriamente! Ok! Abbiamo aperto qualcosa nel box che ha comprato Jacopo e ha impullato due full art molto molto carini! No è bellissima la modalità reload raga! Mi piace un casino mi piace! Anche cose che non devo... METHOD! 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 FILI MOSTIERE MARRANO! grazie per aver portato due mozzi sulla mia bagnarola e voi due lucidare il ponte e olio di gomito altrimenti vi do impasto gli squali adesso ha iniziato la parte sinistra non lo so, poi anche il ciclo sarà quello che mi amplia questo dolore infatti ho detto che sfiga, ci ho cazzato su due cerotti e lanciala ho subito sulla nuova maglietta, non posso farla vedere vai siamo pochi perché mancano ancora due ore ha senso, ha senso ciao boys, come stai caro? buongiorno, buongiorno ciao ragazzi, ciao a tutti purtroppo non posso eliminare la doppia animali sottolineatura di G2020, due mesi non è possibile 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 ma cosa dico nel live mi pare male? mi pare male? mi pare male? scusatemi se vi faccio uscire in questo... però è molto divertente da vederli si è molto divertente non è possibile non è possibile non è possibile non è possibile non capisce parca che tipo di caffè hai io avendo un piatto se ti preoccupo la cazzo salutiamo gli amici che provengono chiaramente dalla Mongolia che parlano così quando sono in Italia se nei Twitch lei è la PAMI trattino basso potete cancellarle il canale io mi dissocio tutto quello che dice se è dentro se è dentro dai cazzo una hit bro bro che cazzo fai vai bomba cosa? porco boi aspetti allora lei fa il mio camera tenga sotto qua la mano allora qui abbiamo come ti chiami? Matteo abbiamo tre pacchi di Matteo di Zenith Regale adesso lo sappiamo lui è il mio bodyguard di fiducia che si chiama? Gabriele Gabriele che mi rompe il culo se va avvicinato allora un secondo io se si può salutare vado cioè facciamo un modo per c'è un trick però dai un trick vai dimmi il trick diciamo che è più dispiaciuto del ragazzo io sono io sono siamo abituati mamma mia la rotta l'ha salvato no l'ha salvato col piede siamo staccato la gamba siamo 190 buon appetito ragazzi adesso mangiamo anche noi e prendiamo da bere allora beh molto bene ragazzi vi state divertendo stiamo riprendendo Radella Vale tutto bene molto bene che devi prendere panino amo non lo so non lo so ci vengono c'è sei incastrato cazzo culo oggi è ciccio oggi è ciccio grazie grazie ma è ciccio oggi urlano xuder xuder urlano xuder xuder ho detto è ciccio nooo non ci vengo te l'ho già detto ventin era una vita che non dovevo fare una roba del genere non lo so cosa fosse successo con Zano entro in 18 italiani PSA o BGS9 ho anche 10 potresti portare qui sul palco più soldi in quella valigetta sì che probabilmente nella nostra casa o nel senso proprio la casa proprio dice lui la porta in giro come se fosse un figlio perché non l'ha portata oggi mannaggia scusate se dobbiamo aspettare apriamo il mio per arrotondare mi scrive Vasco vado a tatuarmi ti proibisco di tatuarti la scritta Vasco vai a cagare perché Vasco è Vasco sì sì al funerale andiamo in Irla 100-100 raga mi piace io sinceramente per cioè vuoi andare al funerale di Vasco io vado Vasco lavorando ok anno 2000 ciao gaspa io io grazie ragazzi grazie Poggi sottolineatura sottolineatura zero sottolineatura 40 mesi ciao gaspa buon pomeriggio xyuderone xyuder sporca allora ehi ehi non c'è da ri ehi 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 stavo controllando stavo calma calma che stavo controllando una cosa ciao